Siamo in compagnia del dottore Lino Attardi per la nostra consueta chiacchierata periodica. Anche oggi parliamo dei problemi della sanità siracusana. Partiamo però, dottore, non dall'attualità stretta, quindi vaccini, covid, eccetera, eccetera, ma da quello che è successo qualche giorno fa nelle corsie del pronto soccorso di Siracusa con l'ordine dei medici che ha denunciato un'altra aggressione nei confronti di un sanitario. Ecco, una situazione che si è verificata a Siracusa ma che purtroppo si verifica periodicamente anche in altre città, quindi occorrerebbe tutelare maggiormente probabilmente i professionisti della sanità. Sì, questo è un problema vecchio, quello dell'assalto alla diligenza, perché la gente esasperata ha ragione, per la paura ha ragione, ma non può sicuramente attaccare gli addetti ai lavori solo per che cosa, i ritardi, ma i pazienti vanno studiati dentro il pronto soccorso. Io, quando ero direttore del pronto soccorso, mi permetto di dire che li ho educati i siracusani, perché siamo partiti dallo sfondamento delle porte, dei vetri, eccetera, eccetera, poi bussavano, gli davamo notizie, eccetera, eccetera, tutte queste cose. Purtroppo, oggi c'è, e questo comunque non giustifica questa aggressione, oggi c'è un cambio di guardia al pronto soccorso, non in senso negativo, c'è il personale e è cambiato tutto, per cui ci sono giovani medici che giustamente vanno protetti, vanno fatti crescere, ci sono nuove, nuova impostazione, perché è venuto un nuovo primario al pronto soccorso che ha vinto il concorso, per cui giustamente un certo periodo di rodaggio in un momento drammatico per Siracusa e Provincia. A proposito di ospedale, ci sono in corso dei lavori, si sta ampliando il parcheggio, come vede questa situazione, anche perché, insomma, tra non molto dovrebbero partire i lavori per il nuovo ospedale di Siracusa, quindi era proprio il caso di fare questi interventi all'interno del vecchio ospedale, ancora in uso, ovviamente. Vede, noi meridionali siamo dei maestri nelle alchimie del fare o non fare. Periodicamente l'ospedale di Siracusa viene, come si suol dire volgarmente, alleccato. Si fa la facciata, si ripittura, sono stato recentemente a sbrigare una faccenda all'interno, corsie pitturate per bene, eccetera, eccetera. Ma che vale il colore quando personale carente? A qualunque livello i medici sono massacrati, gli infermieri non ne parliamo, sono distrutti, mi arrivano giornalmente messaggi, aiuto, 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 io più che denunciarle queste cose, e accarezzando per ora il mio amico Madonia, che però ha già dimenticato il suo debutto e le promesse fatte, che andavano in antitesi ai comportamenti discutibili del suo predecessore, mi pare si chiamasse Madeddu, Madeddu, eccetera, eccetera, che chiaramente è stato tolto dalla direzione sanitaria dell'ASP, perché stendiamo un velo pietoso. C'è fra le altre cose la magistratura, che ha attenzionato il gota dell'ASP, eccetera, eccetera. E allora, qui il discorso è semplice. Dice, io non credo che si farà il nuovo ospedale di Siracusa. Dice, ma come? Hanno approvato la prestigiacomo all'epoca che io avevo attaccato in una nota report, gilette, non mi ricordo perché mi hanno compulsato in quelle trasmissioni, eccetera, eccetera, mi mandò un documento, dice, ora vediamo come ti metti di fronte a questo documento. Io, che sono Santa Chiara di Napoli, ho dato merito al prestigiacomo che aveva inserito l'ospedale, la costruzione dell'ospedale di Siracusa nella sacca, diciamo così, dove aveva preso forma il coso di Genova, il ponte di Genova. Quindi si torna a merito, eccetera, eccetera. Ma siccome io mi definisco un uomo di Monta, e io sono diffidente perché vedo una sanità spostata quasi esclusivamente nel Catanese, qui è stato sacrificato l'ospedale di Noto, 300 posti letto attrezzati che gridano vendetta, un eli soccorso che non ha manco l'ospedale di Siracusa e tutte le altre qualità dell'ospedale di Noto. Nonostante Razza sia sceso a Noto, mi pare che gli sfregiarono la macchina, queste cose non si fanno, però se l'è voluta perché ha fatto ulteriori promesse, l'ospedale di Noto non esiste nella geografia sanitaria regionale di Sicilia. Quindi per cortesia finiamola con tutte queste fregnacce, finiamola, le cose le dobbiamo chiamare con loro nome. Allora, l'ospedale di Siracusa che partiva con 500-600 posti letto all'epoca, eccetera, eccetera, è dimagrito sempre più, perché c'è una volontà, fra virgolette, politica, di rendere Siracusa una succursale di Catania. Lo è nei fatti. L'ultima in ordine di tempo è stata fatta in un quartiere discutibile, librino, per carità, discutibile nel senso che c'è stata povera gente, eccetera, eccetera. È stato fatto un ospedale che, dicono, è una meraviglia, 400 posti letto! Siracusa non li ha questi posti letto, al contrario, chiudono Noto, chiuderanno fra non molto lentini, ci hanno tentato, il tempo che si assestano, eccetera, sempre ridimensioneranno sempre più Augusto, e così via, eccetera. L'unico che resiste è l'ospedale di Avola, che però non può sostenere l'urto cui è chiamato, perché la struttura è quella che è. E allora cosa si farà? Ma dove siamo questo ospedale di Siracusa, che lo mandano? Noi faremo! Nonostante siano stati affidati a Sua Eccellenza il prefetto, che è il responsabile, eccetera, eccetera. Ma siamo fermi! Ah, vi ricordo che a Genova hanno fatto il ponte in meno del tempo previsto! Quindi che cosa vogliamo? Vogliamo continuare a farci imbrogliare? Io mi auguro che lo facciano, però nell'Emore lo stradale di Siracusa è distrutto.